Finisce 1-1 tra Vicenza e Bari in una partita dalle molte emozioni. Si inizia con un rimpallo al limite, Geda, conclusione raso terra, fuori. Il Vicenza ci prova su azione d'angolo, testa di fissore, alto. Il Bari si affida invece alle punizioni di Cordoba, il tiro sfiora la traversa. Break del Vicenza, tre quarti campo, Geda si accentra, raso terra, fuori di poco. Le occasioni si ripetono, Avramov esce male, bella vista, tenta il pallonetto, Paganin sulla linea, libera. Altra punizione di Cordoba, interno destro a girare, Avramov si riscatta. Pericoloso poi il Vicenza, è di Baggio, però riesce solo a sfiorare. L'ultima emozione del primo tempo, la procura Mora che sbaglia il rinvio, ma Biondini tira centrale. Nella ripresa i due gol, nono minuto, punizione da sinistra di Geda, nella mischia spunta e di Baggio, Battistini non trattiene 1-0. Il Vicenza all'occasione buona per il 2-0, Geda libera Bonanni che però spreca. E subito dopo arriva il pareggio, Cordoba migliora in campo, controlla appena dentro l'area e c'entra all'angolo basso, 1-1.